Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, quella di oggi martedì. È solo una breve parentesi di cielo grigio con nubi diffuse soprattutto sul centro Levante. Domani mercoledì tornerà il sole che splenderà pressoché indisturbato almeno fino alla fine settimana. Il dettaglio oggi, martedì 8 gennaio, una perturbazione in arrivo da nord scivola sull'Adriatico e interessa marginalmente la Liguria portando condizioni di cielo coperto con isolate e deboli piovigini sul centro Levante e qualche breve schiarita a Ponente. Generale miglioramento di serata, venti deboli moderati da sud ovest in rotazione da nord nel pomeriggio, mare poco mosso in aumento fino a mosso, temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 9 e 15 gradi nelle zone interne tra 8 e 11 gradi. Domani mercoledì 9 gennaio l'ingresso di correnti secche di Tramontana favorirà il ritorno del sole che splenderà ovunque appena disturbato da modesti addensamenti residui in mattina a Tapponente. Venti da nord, forti o di burrasca con raffiche sui crinali e allo sbocco delle valli, mare mosso a tratti molto mosso levante, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 3 e 6 gradi nelle zone interne tra meno 6 e 0 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 11 e 15 gradi nelle zone interne tra 8 e 10 gradi. Dopodomani giovedì 10 gennaio una decisa rimonta dell'anticiclone atlantico che da settimane protegge le regioni occidentali del nostro continente garantirà un'altra bella giornata di sole, il cielo sarà sereno o al più debolmente velato per il passaggio di nubi alte e sottili, venti da nord fino a moderati o forti in calo, mare mosso in lento calo, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 2 e 5 gradi nelle zone interne tra meno 6 e meno 2 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 10 e 12 gradi nelle zone interne tra 6 e 9 gradi. è tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it sulla pagina facebook di ARPAL, a risentirci!